Buongiorno a tutti! Allora, me lo state chiedendo in tantissimi, me l'avete chiesto, era un po' il sogno, cioè il mio sogno in primis, ma anche il sogno di tutti voi, di portare Nonno Faustino a San Siro. Per me sarebbe stata una cosa bellissima, ma anche per voi ho visto che ci tenevate tantissimo, però purtroppo non sarà possibile. Non sarà possibile perché non perché io non mi sono mosso, anzi ho mosso male i monti, anzi ringrazio tutti i miei amici calciatori, non calciatori, che hanno provato a fare qualcosa, perché comunque Nonno sa fatica, non può camminare, San Siro non è facile come stadio, non è lo stadio dietro casa, che ci vai a piedi un attimo e via. Nonno ha più di 90 anni, quindi ha bisogno delle cose, arrivare con la macchina dentro, con un taxi o con qualcosa, non è facile, quindi doveva essere tutto perfetto e purtroppo non è così. Non è così perché l'Inter ha risposto dicendo che per questo tipo di partite non è possibile prendere una carrozzina o entrare dentro con la macchina. Questo è quello che mi hanno detto queste persone che sono informate per me che ringrazio ancora, però purtroppo ha detto l'Inter non lo fa. Quindi a me dispiace tantissimo, dispiacerà anche a voi, però è così, purtroppo è così. Quindi io potevo tranquillamente trovare un biglietto in ospitality, l'avrei trovato tranquillamente, sarei potuto andare allo stadio. Però sinceramente io una partita così me la vedo con nonno mio, a casa mia, insieme a lui. Certo, poteva essere un'esperienza fantastica, ma sicuramente la rifarò, però queste cose per me non ci hanno prezzo, non c'è cosa più bella di vederla con nonno. Quindi me potevano mettere anche a centrocampo e dal calcio all'inizio non sarei andato. Quindi ce la vediamo insieme, tiferemo Inter e speriamo di arrivare in finale. Comunque questi video ve li dovevo perché in tanti era il sogno di tutti, purtroppo non sarà così. Che vedevo di niente.